Sono ancora in corso le operazioni di ricerca di un giovane somozzatore disperso da questa mattina alle ore 10 a 12 miglia dalla costa Teramana, tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, nei pressi della piattaforma per estrazione di idrocarburi denominata Squalo. A dare l'allarme è stato l'amico che si era immerso con lui e il quale, non vedendolo più riemergere, ha chiamato i soccorsi. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Pescara anche se la base operativa è stata allestita al porto di Giulianova. Il giovane ha 28 anni ed è di Pescara. Nel punto dove si era immerso la profondità raggiunge i 74 metri. Nella prima fase i somozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato tutta l'area circostante fino al limite dei 50 metri oltre il quale non è possibile spingersi. Così per proseguire le ricerche fino al fondale i vigili del fuoco e la guardia costiera hanno richiesto l'ausilio di attrezzature specifiche. Il nucleo somozzatori di San Benedetto del Tronto ha messo a disposizione un robot. Nelle prossime ore giungerà da Catanzaro un altro robot dotato di particolari sonar capaci di scandagliare al meglio i fondali e richiesto dai vigili del fuoco di Teramo. Tra le ipotesi i due giovani si sarebbero immersi per effettuare attività di pesca subacquea. C'è il rischio che nel corso della battuta il disperso sia andato incontro a sincope anossica, uno dei pericoli della pesca in apnea quando, sparando a una preda, si rischia di essere trascinati oltre i 15 metri. L'amico del 28enne, pescarese anche egli, è stato ascoltato nel pomeriggio negli uffici della Capitaneria di Porto di Pescara. Le ricerche finora non hanno dato esito. In seguito le autorità competenti dovranno valutare se il punto di immersione dei due sommozzatori sia stato conforme alla distanza dalla piattaforma consentita dalla legge.